Siamo a Bocca Negra, sullo sfondo della guerra e della pace di Genova, contro Venezia, ci parla della bellezza e della pericolosità dell'esistere. All'interno dello spettacolo è presente e ossessiva la realtà del mare. E' l'umanità di Simone. L'elemento che maggiormente esce da questa mia regia, da questa mia interpretazione di questo racconto, di un racconto che ci parla dell'Italia del Trecento, ma che in realtà fa di Simone Bocca Negra il progenitore dell'unità d'Italia. Grazie. 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 Grazie.